Siamo oggi con l'Italia, Luca Toni 1-0, metto il 2-0 per l'Italia qui, lo stop con Toni praticamente, me ne vado, eccoci qui, me ne vado, ecco, tiro qui, vi giro, tiro sinistro, traversa gol, cioè traversa palo gol, notate qui, traversa palo gol, bellissimo gol. Questa è la mia cosa con l'Italia, Luca Toni, al prossimo gol, ragazzi.